Opa! Andiamo! Perché deve sempre finire in questo modo? Parli della biondina? Biondina tua sorella. Ma perché hai scelto un uomo così? Come mai ci sei cascata? Hai lavorato qui per tre anni, sapevi che tipo eri. È solo che odio essere sempre la guastafeste della coppia. Ne abbiamo già parlato. Ti ha detto della visita dal dottore? No. Andiamo? E dove andiamo? Via? A casa, domani devo andare a scuola presto.